Ci tenevo a fare due chiacchiere con voi, che spero siano due e non ventidue, ossia spero di non dilungarmi troppo su quello che è, diciamo, il mondo di FIFA dopo la patch, perché, insomma, secondo me siamo in presenza ovviamente di uno spartiacque importante in questa stagione di FIFA 21, è cambiato radicalmente il gioco, insomma, questo è innegabile, ma, destra e sinistra, soprattutto in live, ho notato proprio da un lato parecchio sconforto e dall'altro parecchie perplessità, parecchi dubbi su quali possono essere moduli, su quali possono essere giocatori in meta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci tengo un attimino ad andare a sviscerare questi argomenti in maniera tale che li teniamo fissati qua, mi fa piacere che anche la community del tubo partecipa a questa discussione, a questo dibattito e cerchiamo un attimino di chiarire le idee. Passiamo giusto per comodità su una schermata, così, della VL su PS, dove, insomma, sapete che io non gioco, però ho un account molto simpatico. E prima di andare ad affrontare i temi che vi ho anticipato, volevo un attimino precisare una cosa, perché nel primo video relativo alla patch review, insomma, mi avete detto, meno male che hanno facciato il doppio passo, ovviamente in altri termini, non se ne poteva più, eccetera, eccetera, veniva utilizzato ovunque, è ok. Io credo che, da un lato, ci possa stare il discorso relativo, ok, hanno facciato il doppio passo, perché comunque era una meccanica molto forte, ma a mio parere molto più difendibile rispetto, ad esempio, a un bridge che, se eseguito bene, ti paralizza il difensore senza possibilità di intervento, dall'altro, comunque, la mentela del tipo veniva utilizzato ovunque, secondo me non ha senso, perché chi andava a utilizzare il doppio passo nella propria metà campo, o magari con un Varane o con un Sissoko, voglio dire, era più una semplice meccanica fatta lì in maniera mnemonica, giusto per muovere il pallone, non è una vera e propria utilità, l'unica utilità era fatta per prendere velocità, o in zona centrale, quando si aprivano le difese, o in diagonale per saltare il marcatore, quindi questa era l'utilità del doppio passo, che adesso non abbiamo più, quindi, praticamente, quell'azione a scaletta deve un attimo ritrovare, magari, l'impronta di FIFA 20, come avevo detto pure nel video precedente, e quindi, piano piano, andiamo a capire come andare ad attaccare le difese avversarie. Un altro tema centrale, che mi avete bombardato anche nei commenti, è stato, bene, è uscita la patch, hanno nerfato il doppio passo, Cristiano Ronaldo, Mbappé, eccetera, eccetera, sono da buttare, sono tornati Messi, Bayheader, Dalglish, eccetera, eccetera. Per me, la risposta, al momento, è assolutamente no, perché il doppio passo, fondamentalmente, è una skill che fanno i 4 stelle skill, quindi, così come la fa Cristiano Ronaldo, così come la fa Mbappé, così come la fa Neymar, la fanno anche Bayheader e Messi. Di conseguenza, cosa succede? Succede che, non è che, togliendo il doppio passo, Ronaldo non vale più niente e Messi diventa un'altra volta il campione, per dirvi, perché, comunque, quest'anno abbiamo visto che anche carte come quella di CR7 hanno ricevuto un bel buff dell'agilità, sono molto più agili palla al piede e, in più, all'agilità abbinano anche un'ottima presenza fisica, un'ampiezza di movimenti, che rimane ancora attualissima, con skill del tipo uno scoop turn, un semplice filtrante a mandarlo in campo aperto, perché vi ricordo che, al momento, i filtranti, ragazzi, sono ancora super OP e mandare in campo aperto con un filtrante Messi o un filtrante Cristiano Ronaldo sono assolutamente due cose differenti, ragion per la quale, per il momento, io ritengo che la quinta stella skill sia ancora un gradino sopra a quella della quinta piede debole. Certo, qualora abbiamo 5 piede debole e 5 stelle skill, come magari può essere un Neymar o a livelli proprio clamorosi, un R9, siamo veramente al top, insomma, e non ci sono da farsi problemi. Però io non andrei, al momento, a panicsellare i giocatori che ci hanno accompagnato fino ad ora presi da quest'ansia di dire non valgono più niente, assolutamente. Perché è vero che piano piano nel meta stiamo recuperando delle skill che andremo a vedere anche domani, vi spoilerò già qualcosa che, diciamo, va a sostituire il doppio passo, ma ovviamente non è il doppio passo, però quelle skill lì vengono fatte, secondo me, a mio avviso, meglio con giocatori che hanno un'ottima fisicità. Quindi, su questo punto di vista, io direi di non impazzire sui giocatori e al momento tenere per vero tutto quello che abbiamo detto fino ad ora. Quindi, archiviato il capitolo giocatori, andiamo a parlare di quello che è l'altro capitolo, il capitolo moduli e tattiche. Perché un'altra questione centrale che mi avete esposto è ok, sì, è uscita la patch, è andato tutto quanto a farsi benedire, dobbiamo cambiare moduli e tattiche. Profondità, credi che non vada più bene 7, allora meglio 5, ripiega 1-1, eccetera, eccetera, eccetera. Anche qui, ragazzi, io credo che, insomma, non è che va a cambiare chissà cosa. Certo, sappiamo che comunque i moduli che funzionano di più sono sempre quelli, il 4-4-2, il 4-2-3-1, il 4-5-1, il 4-3-2-1, da poco il 5-3-2, ma sono quelli. Alla fine, la discriminante che vi deve far scegliere tra un modulo e l'altro deve essere sempre quella di dire, io con questo modulo mi trovo meglio rispetto a quest'altro e uso quello. Io magari mi trovo meglio col 4-4-2, tu col 4-2-3-1 e il mio cane col 5-3-2, per dirvi. E non c'è nessun male a utilizzare moduli differenti, altrimenti saremmo tutti quanti dei robot che usano le stesse cose. La patch non è andata a sconvolgere chissà quali equilibri, la patch è andata semplicemente a eliminare una meccanica in zona offensiva. Per cui, se in zona offensiva andiamo a togliere il doppio passo, ma ha maggior ragione, ad esempio, che io posso utilizzare la profondità 7 per cercare di aggredire alto il mio avversario, con lo spam di trappola del fuorigioco che si fa in automatico. E ancora di più, devo difendere bene con i mediani per far sì che la difesa sia compatta, perché venendo a mancare l'arma principe per poterla saltare, il mio avversario così risulta più in difficoltà. Quindi, anche sul tema moduli, io vi dico, attenzione, non andiamo subito a credere che si sia stravolto chissà cosa, No, continuiamo sulla nostra strada e continuiamo a capire quale possa essere una serie di dinamiche che ci portano ad arrivare in area avversaria in maniera più efficace e ricorrente, come accadeva col doppio passo, senza andare a stravolgere. Uno degli errori più grandi che si può fare quando si verificano queste situazioni è proprio quello di andare a stravolgere tutto, perché poi stravolgete, non vi trovate, continuate a stravolgere, entrate in un loop infinito che vi porta solamente a perdere fiducia, tra virgolette, o a mandare il gioco a dire, a rivederla, perché mi sono rotto le scatole. Quindi, anche capitolo a moduli, non pensate che se vi stiamo dicendo ci serve l'azione più ragionata, bisogna mettere possesso palla, assolutamente. L'azione più ragionata vuol dire semplicemente che al limite dell'area bisogna avere un po' più di pazienza per trovare l'imbucata vincente nei confronti dell'avversario. Anzi, piuttosto che possesso palla, io ho in mente una tattica che potrebbe funzionare, ve la spoilerò palla lunga, ma la testerò e poi, casomai, vi porto le tattiche sul canale, insomma, un po' di tutti i moduli che avrò provato. Assolutamente ripiega 1-1 per me non ha senso, perché vi schiacciate troppo. Queste cose qua che vanno girando, per me sono da evitare. Quindi, raga, niente, ci tenevo a fare questo video per chiarire un attimo queste questioni un attimino così rimaste in sospeso e che avevano generato del panico importante all'interno della community. Secondo me, veramente tante perplessità da parte della maggior parte degli utenti. Spero, mi auguro, che durante questa Weekend League anche quelli che esultano come se fosse il 2022 in anticipo per la morte del doppio passo capiscano quanto, insomma, secondo me era un'arma molto molto utile soprattutto contro i giocatori un po' più così perché per me si è andato ad appiattire di tanto lo skill gap, però vabbè, ripeto, la mia è un'opinione ovviamente in quanto tale la rispetto anche le vostre, ragazzi, per quello mi piace tanto il dibattito nei commenti. Ieri ho visto dei commenti che mi hanno fatto accapponare la pelle, però va bene. Gente che probabilmente vede due minuti di video e poi eitera, però è normalissimo. Quindi non vi preoccupate, ragazzi, come siamo sopravvissuti al nerf dell'elastico di inizio anno, come siamo sopravvissuti alla patch di FIFA 18 che mise la CPU in difesa, FIFA 19 siamo sopravvissuti ai Tornado Cross, su FIFA 20, ragazzi, siamo sopravvissuti attacco sul lato della palla con le difese che non si aprivano. Non vi preoccupate. Sopravviveremo anche a questa patch. Arriveranno sul canale tutti gli aggiornamenti, eccetera, eccetera, tattiche, tutorial. Aspettatevene uno già domani. Quindi, raga, per questo video è tutto. Io vi ricordo di lasciare un like e un commento. Iscrivetevi al canale che stiamo andando una bomba e mi fa super piacere. Trovate in descrizione tutte le info per le live giornaliere. E, ragazzi, a me non resta altro che salutarvi. Ciao!